Ci ricordiamo bene per esempio l'uso che fanno alcuni leader populisti dei social, per cui c'hai questa figura che è sempre inequivocabilmente il capo, che ovviamente decide sulle sorti del partito, decide sul tipo di discorso politico da fare, e però allo stesso tempo si presenta come un uomo qualunque della quotidianità, quindi abbiamo Salvini che fa il video selfie chiamando tutti i amici su Facebook, che apre ai commenti perché così fa vedere che effettivamente usando anche un linguaggio colloquiale e da bar è aperto alla dinamica fraterna e di scambio. E questo ovviamente è anche la cifra dei canali di comunicazione che vengono usati. Allora, giusto perché nell'intervento di Mario Pezzella sono state aperte un po' di questioni interessantissime, effettivamente volevo rivolgere in questo ultimo giro a Manuel Anselmi una domanda rispetto ai cosiddetti neopopulismi europei, visto che stiamo cercando di contestualizzare una specifica forma di populismo, che è quella che vediamo per così dire a casa nostra, che tipo di relazione abbiamo appunto, a partire da questa figura carismatica del leader, gerarchica e paterna, anche quando si dà nelle forme diciamo della fraternità, che tipo di relazione c'è tra il populismo e la sovranità popolare per esempio, che è un concetto e una pratica che in Europa conosciamo fin dai tempi della modernità, è proprio stato diciamo il valore fondante di tantissimi movimenti popolari per l'appunto che hanno ottenuto tantissime conquiste. Se ci riesci a descrivere questo tipo di legame, effettivamente possiamo avvicinarci anche e cercare di dare una risposta ai quesiti che sono stati posti rispetto al superamento della forma Stato e diciamo a tutta la problematicità delle istituzioni che stiamo vivendo. Io mi sono occupato di Europa, non di tutti i casi populismo, noi abbiamo una rete di studi sul populismo che coordino io e Paul Blocker che è un ricercatore che insegna a Praga e si occupa di populismo costituzionale, in particolar modo di Orban. Noi siamo un gruppo di ricercatori, adesso fanno parte anche alcuni colleghi stranieri, proprio per sollecitare questo discorso di una nuova comparazione dei fenomeni politici a livello globale. Io ci tengo molto a questa cosa, noi dobbiamo soprattutto in Italia uscire da quest'ottica un po' provinciale di guardare i fenomeni solo dall'interno del cosiddetto Stato-Nazione. Iniziare a guardare proprio io, nel 2011 mi occupai dei movimenti cileni, movimenti studenteschi cileni e lì mi resi conto che occupandomi, seguendo per più di due mesi il movimento di Camila Valleco, di tutti i ragazzi che scendevano in Cire, che scendevano in piazza per l'educazione pubblica, se vi ricordate. In realtà io stavo facendo un lavoro in sincrono con tanti altri ricercatori che stavano seguendo chi la primavera araba, chi gli indignados. Noi dobbiamo ormai ragionare, se vogliamo veramente iniziare a esplorare nuove forme di mediazione, nuove forme di istituzione, nuove forme di logiche di mediazione e logiche del consenso. Ecco, noi dobbiamo iniziare a guardare in termini di comparazione e globale. Ecco, tornando alla domanda, in Europa io mi sono occupato soprattutto del populismo italiano perché a un certo punto mi hanno chiamato negli Stati Uniti per fare una sorta di comparazione tra America Latina e Italia, o meglio Venezuela e Italia. La cosa interessante del caso italiano e di cui si ha poca contezza all'interno dell'Italia, cioè da qua, è che il fatto che l'Italia viene studiatissima come caso di studio di populismi perché ha una caratteristica, io lo dico pure nel libro. Era fino a poco tempo fa l'unico, adesso c'era anche la Francia, era l'unico scenario populistico, l'unico caso di populismo dove avevamo più soggetti populistici in competizione. Cioè, se noi prendiamo il Venezuela, c'è Chavez e l'opposizione che è fascista, ma non è populista. Peron, c'era Peron, il peronismo che era populismo, ma l'opposizione, quel poco di opposizione c'era, le altre forze politiche non erano populistiche. Così tutti gli altri casi, no? La cosa interessante in Italia è che la storia italiana, appunto come dicevo prima, ha fatto sì che, cioè, si caratterizzava il fatto che dalla prima repubblica alla seconda repubblica noi abbiamo avuto una vera e propria svolta populistica. In realtà anticipata dal fenomeno della Lega Nord, no? Che avvertì, diciamo, a livello regionale, locale, quantomeno, avvertì il cambio di paradigmi, no? Cioè, i processi di disintermediazione che ha studiato pure Bonomi, Derita. E quindi, su scala nazionale, con Berlusconi noi abbiamo avuto la vera e propria svolta. Perché dico più soggetti populistici in competizione? Perché poi, dopo è arrivato il Movimento 5 Stelle, in chiave anti-berlusconiana, il Waffa Day, contro la Cassa, eccetera, che era un soggetto politico populistico, però con un orientamento diverso. Peraltro inventando una variante del media populismo. Berlusconi era un telepopulismo e loro hanno inventato il web populismo, no? Come sappiamo bene. E poi il fenomeno più interessante di tutti questi è il renzismo. Il renzismo arriva come un populismo omeopatico, no? Un populismo dall'alto, semi-istituzionale, dove lui che era uomo del partito fa la sua uscita pubblica, la sua scalata pubblica, diciamo così, come politico nazionale con una strategia del dentro-fuori. Cioè, sto dentro il partito ma appaio come quello che dal di fuori lo attacca, no? La rottamazione, tutte cose che conosciamo. La cosa interessante dei soggetti italiani, cioè delle soggettività populistiche italiane, è che pur essendo molto differenti tra di loro, avendo nello stile delle somiglianze ma sempre in termini di varianza, ognuno ha una sua variante, no? Hanno un elemento in comune. Sono tutti provenienti dalla società civile. Si definiscono società civile, non si definiscono società politica. Questa è la cosa, diciamo così, in un'ottica di lunga durata che è molto interessante. Cioè, tutti sono società civile. Non a caso, io non uso mai il termine antipolitica perché è un termine per me, analiticamente, un po' veramente scivoloso. Sono tutti società civile. Berlusconi era un uomo vicino al Partito Socialista, prima la democrazia cristiana, lo sappiamo tutti, però si presenta come, no? Fa questo suo esordio come imprenditore, uomo di famiglia, no? Come tutti gli altri. E lì costruisce questo tipo di frame populistico comunicativo. Il Movimento 5 Stelle con il tema della casta, il Waffa Day, il civismo particolarmente evidenziato è una forma, appunto, di società civile molto politicizzata. E Renzi si dice società civile perché ovviamente tutto ciò che è politica è vecchio. Perché poi l'altro elemento è che tutti si dicono nuovi. Cioè c'è il novismo, no? Allora, perché dico questo? Perché la cosa interessante è che noi in Italia, finché ci sarà questo schema che produce soggettività politica, populistica, noi avremo soggettività populistica. Quindi dobbiamo aspettare che si esaurisca questa matrice di una società civile che fa politica. Cioè lo spazio politico occupato dalla società civile. In termini proprio simbolici con cui stiamo parlando. L'altra cosa, di sicuro non so se esisterà un populismo di sinistra come qualcuno dice. Di sicuro abbiamo un populismo elitista dall'alto che lo stanno sperimentando. Cioè Renzi in questo caso è stato solo un tentativo, Macron è un renzismo affinato, elaborato, con una strutturazione meno pressappochista. E questo è interessante. Allora questo ci pone un altro tema. E ora chiudo. Nell'analisi dei populismi non c'è solo il piano sincronico, non è che dobbiamo solo comparare. Dobbiamo capire pure in termini diacronici quando arriva un populismo. Solitamente l'insorgenza populista, questa è la mia impressione, ma che condivido pure con i miei colleghi, è che l'insorgenza, la fase populistica, arriva sempre laddove c'è la crisi di un elitismo. Perché l'opposto del populismo è l'elitismo. Ora non voglio arrivare a definire la democrazia, queste due forze, come il tau della democrazia. Però oggettivamente laddove nasce una fase populistica, una svolta populistica addirittura come in Italia, è perché noi abbiamo avuto la crisi di un elitismo. Ora in Italia c'è stato un elitismo partitocratico, dobbiamo dire, con un ceto politico che era lo stesso, o comunque anche se i nomi cambiavano, nello stile, nelle modalità, nelle prassi, nei dispositivi, era lo stesso dalla nascita della Repubblica, che poi va in crisi. In Venezuela l'arrivo di Chavez è l'arrivo di una forza completamente diversa, appunto, populistica, che riesce a includere persone, una massa di esclusi che erano stati esclusi da un sistema, anche lì, partitocratico, elitista, fortemente oligarchico, che aveva gestito i beni del paese, in chiave nordamericana, diciamo, filo nordamericana, facilitando una fuga dei capitali verso gli Stati Uniti, dove c'era uno stile di vita, ora molti forse non conosceranno la storia venezolana, ma il Venezolano era uno dei paesi dove si sognava, quasi tutti pensavano di essere, i ricchi pensavano di andare a vivere a Miami. Cioè c'era proprio uno stile, lo stile di vita nordamericano, era così un punto di riferimento simbolico, delle classi alte, ma anche di quelle basse, per cui non a caso la diffusione delle scuole di bellezza per le ragazze, che poi erano quasi le baby doll dei nordamericani, c'era una dimensione simbolica che Chavez con il suo criolismo, con questo suo socialismo creolo, ha rotto, però quel sistema là è durato per più di 40 anni, dal patto di Punto Figo nel 57, quindi, ma un po' tutte queste, ora, il Macron arriva perché si è esaurito pure lì uno schema, lo schema dei partiti, eccetera, che ormai non produceva più nel leadership, né un discorso. Allora, il tema interessante per me è pure iniziare a vedere, in termini ciclici, io lo parlo sempre da analista, in termini ciclici queste cose, lì escono fuori degli spunti interessanti. Ora, io ripeto, io ho la sensazione che la stagione populistica durerà, non perché debba vendere il libro, perché abbiamo tutti i segnali che quantomeno ne avremo almeno per altri cinque anni. Di sicuro però i segnali già ci stanno che le modalità, appunto io dicevo guardiamo il consenso, cioè la sinistra deve fare quello che sta facendo da destra, già da tempo, guardano le modalità di produzione del consenso in contesti populistici e costruiscono un nuovo elitismo. Cioè stanno costruendo nuove forme elitiste che però utilizzano i meccanismi di produzione del consenso tipiche della grammatica populistica. Questo in realtà non è una novità, e mi taccio. Studiando i fenomeni, se uno vede i fenomeni populistici nordamericani, perché Trump semplicemente colpisce perché è arrivato alla Casa Bianca, ma prima di Trump se vi ricordate c'è stata Sarah Palin di quella linea di populismo di destra, Ross Perot, altro Magnate che tentò, quasi riuscendoci, di diventare presidente degli Stati Uniti negli anni 90. Però se uno va a vedere i populismi del sud degli Stati Uniti, Wee Long, degli anni 50 e 60, erano dei personaggi demagogici con un fare appunto molto purerozo, però che avevano un grande successo elettorale, che misero in difficoltà il Partito Democratico e il Partito Repubblicano. Che fece l'establishment del Partito Repubblicano e del Partito Democratico? Li spense mettendo dei leader locali, scegliendo i leader carismatici, quasi come dei piccoli Renzi che avessero appunto delle caratteristiche, degli stili, una comunicazione populistica e quindi in modo omeopatico li spegnevano. Attenzione che queste sono molto interessanti come esperienze. L'altra cosa, l'ultima battuta rapida su Podemos. Podemos, attenzione, perché Podemos importa un certo chavismo che avevano conosciuto molti di loro, avevano conosciuto in prima persona, perché Iglesias stava là. Però attenzione perché io quando dico io su Podemos populista io metto un po' diciamo così un'avvertenza critica, nel senso che è populista la prima fase, cioè veramente è come un renzismo di movimento, cioè nel senso che Renzi dall'alto prendeva degli stili. Qui stiamo parlando più che altro di un'avanguardia intellettuale. La peculiarità di Podemos è che abbiamo un'avanguardia intellettuale che mai si è vista in Europa, se non dagli anni 70, di un gruppo di intellettuali che riesce a creare un discorso usando anche tecniche populistiche, perché loro dicono noi siamo al di là della destra e della sinistra, perché sanno bene che producono consenso. Il problema italiano è che noi abbiamo sempre una questione di un grosso problema di ceto politico, cioè vedete le operazioni degli ultimi giorni, c'è tutta una questione di ceto politico, le divisioni. Nessuno si pone il problema del consenso a sinistra, cioè di come produrre un consenso democratico, questo sì, no il populismo democratico, un consenso democratico. Lì invece sono posti il tema di creare consenso progressista utilizzando anche delle tecniche populistiche, però non c'è un elemento, cioè Iglesias non è un leader che riassume il capo, capito? C'è un'avanguardia che c'è una sua leadership, che c'è un elemento di carisma, però è un'avanguardia, capito? Cioè io non uso, e poi soprattutto il primo Podemos è molto diverso dall'attuale Podemos. L'uso, cioè Podemos a un certo punto ha fatto un manifesto, un manifesto di partito, che è una sorta di commento alla serie televisiva del Trono di Spade, no? Come si chiama? Il Trono di Spade. È interessantissima questa cosa, cioè, molto postmoderna diremmo noi, però a parte l'etichetta qui intellettualisti. Cioè loro si pongono il problema di come raggiungere i giovani. Chiudo con questa battuta. Il problema italiano, io mi collegai a questo fatto della sinistra del problema della produzione del consenso. Tantissimi anni fa quando uscì un libricino di Canfora, La natura del potere, un libricino di Canfora, che a un certo punto lui alla fine commenta alcuni discorsi di D'Alema, che li commenta sottolineando un fatto, che tornava l'espressione ci stiamo perdendo il popolo profondo. Cioè D'Alema negli anni 60, scusate, negli anni 90, nel passaggio da DS, a PD, spesso lamentava D'Alema e tanti altri il fatto che stavano perdendo il popolo profondo. Ecco, questo è proprio il problema. Noi abbiamo avuto un'elite partitocratica della sinistra, dei grandi partiti sinistri che hanno perso il rapporto col popolo profondo. E lì si è creato quel vuoto. E ovviamente questa è una banalità con cui chiudere. perché lo sappiamo tutti.